Questo è uno dei video più soddisfacenti che abbia mai visto Clicca mi piace perché lo sarà anche per te, fidati Si vede palesemente se è un dinosauro, perché il disegno è proprio quello Ma il modo in cui lo sta disegnando è troppo soddisfacente Un cacciavite super caldo Se anche per te è soddisfacente questo video, cominci a seguirmi e sarei fortunato per sempre